Ho detto, ma non c'è niente, hanno chiamato il mio amico che lavora a cuna, un quarto c'hanno ancora, e non sta a cunare neanche a piove, non sta neanche in all'acqua. Eh, però la monnezza, però è un po' più veloce, mi sa. Un po' più veloce lo è, eh. Eh, però rispettiamo che stavo qua, eh. Cioè, quando stavo lassù, non era così veloce. Non spero non è succeda niente. Alla prossima Alla prossima